Bene, se non ci sono altre cose io vorrei solo sottolineare due aspetti. Il primo, che i comitati hanno lavorato non contro qualcuno, quindi faccio i eventi, ma sicuramente per la salute delle persone, quindi il primo discorso. L'altro sono le firme, noi ci siamo fermati a 10.000, forse qualcuno in più, ma ne stanno arrivando delle altre, quindi probabilmente il famoso 10.000 che sembrava una pazzia, io dico 15, 20, non lo so, perché man mano che questa informazione arriva alla gente e ci sono segnalazioni che vogliono firmare, che vogliono partecipare, perché prima veramente nessuno ha dato informazioni su queste cose qua. Cioè abbiamo scoperto noi, come anche molti sindaci, che i taccementi hanno fatto una domanda così e nessuno sapeva niente. Quindi grazie ai comitati che hanno lavorato veramente da vicino su questa cosa e probabilmente, io dico, forse arriveremo anche a 20.000, quindi quella percentuale lì sarà solo nell'isola così, perché oggi sono le firme anche dalla parte di là dell'Ada. Va bene, quindi ringrazio tutti e chi è alla piscina, vado in piscina, perché col caldo che fai...